Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Un momento particolare è questo, noi non amiamo molto la retorica e lo sapete benissimo, però è da un po' di tempo a questa parte che stiamo cercando di dimostrare a chi ci ascolta che questa città, e quando parlo di città parlo di città metropolitana, cioè di città allargata alle altre cittadine che la compongono, questa città ha dato i Natali a tanta gente di livello, tanta gente che probabilmente abbiamo in parte dimenticato. Noi stasera vogliamo parlarne di una di queste persone. Correva l'anno 2018, il 14 di marzo veniva a mancare una di quelle figure emblematiche della politica calabrese. Lasciate stare quale che fosse l'estrazione ideologica, anche perché allora c'era l'ideologia, ora l'abbiamo un po' persa di caso, o meglio, è rimasta, ma è rimasta silente, sotto la genere, perché oggi c'è l'interesse, c'è l'interesse che regna sovrano. Allora era diverso. Oggi se non sei laureato ti fai chiamare dottore, se sei dottore ti fai chiamare professore, se sei professore un altro po' ti fai chiamare eccellenza. Questa persona della quale parleremo da qui a poco aveva la licenza elementare ottenuta con tanta difficoltà, non perché era difficile per lui, perché allora i tempi erano diversi, ed era orgoglioso di dirlo. Ma la peculiarità di questo personaggio era che riusciva a discutere e parlare con chiunque, con chi la pensava come lui e con chi come lui non la pensava proprio. Però il rispetto, il rispetto in senso vero del termine, non quello che usualmente, quel significato che usualmente si dà da queste nostre parti, il rispetto era per lui una questione di vita. Personalmente l'ho conosciuto e sono ancora oggi fortemente preso dalla personalità di questa persona. Sto parlando di Girolamo Tripodi, al secolo Mommo Tripodi, come amava farsi chiamare, come veniva chiamato in casa, senatore della Repubblica, ma che ha avuto una vita così bella, da fare in modo che oggi, a distanza di 4 anni dalla sua morte, lo ricordiamo, perché no, anche con un pizzico di commozione. Per fare questo cosa abbiamo fatto? Ovviamente non potevamo non avere qui il figlio, non so se è il figlio più grande, che anche lui continua le orme paterne, ha fatto molta politica in maniera molto seria, ha le sue idee e noi le rispettiamo per quelle che sono, e meno male che ce l'hanno, perché è responsabile e ce li ha sia pure con qualche, come dire, con qualcosa da discutere, ecco, perché Michelangelo Tripodi che qua con me è ancora attaccato alle vecchie tradizioni, e questo è un fatto positivo. Forse gli manca un po' di modernizzazione, ma questo è un mio parere, poi ce lo dirà a lui se è vero o se non è vero. È un pregio, è un difetto? Beh, non sono certo io a poterlo dire. Per ricordare la figura di Momo Tripodi, del senatore Momo Tripodi, una presenza di grande, come dire, di eccezione, perché è veramente un personaggio della comunicazione, per me è un fatto bellissimo, perché eravamo compagni di scuola delle scuole elementari qualche annetto fa, così più o meno, Marcello Villari che è qui con me, e lui, se uno dice Marcello Villari giornalista è più che sufficiente, non c'è altro da dire, giornalista però ce lo aggiungo io, con la G maiuscola. E allora, intanto grazie per essere qua con me questo pomeriggio, prima di iniziare a discutere liberamente con i miei due ospiti, vediamo questo, veramente, io non lo chiamo filmato, lo chiamo quasi un componimento, e sembra perché è un componimento musicale, quando io l'ho visto la prima volta non ho nessuna difficoltà a dirlo, mi sono commosso, mi è arrivato sul telefonino, perché Michelangelo Tripodi me lo ha mandato a come mi manda sempre tutto ciò che riguarda la fondazione che porta il nome del papà, così l'ho guardato per caso e ho detto vado a vederlo, ma mi sono fermato, ho staccato il telefono tutto e l'ho visto tutto d'un fiato. Vorrei adesso rivederlo con voi e subito dopo faremo i commenti del caso. È un filmato, è un componimento che ricorda la vita e le opere di questo personaggio calabrese del quale certamente dobbiamo andare orgogliosi. La regia è pregata di mandarli in onda. Sono nato nel comune di Polistena il 19 ottobre del 1927. Il mio nome è Girolamo, come mio nonno, ma tutti mi hanno sempre chiamato mommo. Mio padre si chiamava Michelangelo, era contadino e possedeva due ettari di terra, comprati a ritorno dall'America. Mia madre si chiamava Macri Maria Concetta. Sono il primo di cinque figli, quattro maschi e una femmina. Ho sempre fatto il bracciante, fino al momento in cui il partito decise per me un altro destino. Quando annunciai a mio padre che lavorava il suo pezzo di terra, comprato con i soldi guadagnati lavorando da idile dal 1919 al 1926 in Pennsylvania, che il partito voleva candidarmi, sorse il naso, perché non credeva che sarei stato eletto. Ricordo i miei compagni, i braccianti, che cominciarono subito a chiamarmi onorevole. E io dicevo, ma lasciate stare, io sono mommo, sono rimasto quello che ero prima. E loro rispondevano, eh no, tra di noi ti chiamiamo per nome, ma davanti agli altri tu sei l'onorevole, se no che ti abbiamo eletto a fare. Quando avevo sei anni, arrivò il momento di andare a scuola, ma mio padre disse che aveva bisogno di me per aiutarlo a lavorare nei nostri due ettari di terra, metà seminativo, metà olivetato. La sera, dopo il lavoro, mi insegnava a leggere e a scrivere, al lume di una lanterna a olio. Comunque, anche se in ritardo a scuola sono andato, e ho frequentato fino a conseguire la licenza elementare. Era una scuola rurale, già frequentata dai miei fratelli più piccoli. La maestra, che era di Reggio, si chiamava, lo ricordo ancora, Benvenuta Milea. Quando seppe che in famiglia c'era un fratello più grande, che non era mai stato iscritto a scuola, mandò un biglietto a mio padre, che preoccupato per possibili conseguenze, alla fine decise di farmi frequentare le lezioni. Un privilegio, visto che a quei tempi forse il 95% dei braccianti e contadini erano analfabeti. Nel 1950, a 22 anni, mi iscrissi al partito comunista italiano. Ogni tanto, per qualche riparazione, o più raramente per farci confezionare un vestito nuovo, andavamo da un sarto che si chiamava Domenico Cannata. Suonava anche l'organo in chiesa, ma era comunista, anche se a modo suo. E' stato il primo a parlarmi di certe cose, della guerra, dei tanti giovani di Polistana che morivano al fronte, in Francia, in Grecia, in Tripolitania, e di cui si avevano scarse notizie. Mi parlava della rivoluzione di ottobre e delle ingiustizie. Sosteneva che era possibile cambiare le cose. Negli anni 50 mi dilettavo a scrivere piccole farse per carri carnevaleschi, di cui curavo il soggetto, la messa in scena, la produzione e la regia. Erano storie divertenti e garbate, e i cittadini di Polistana mostravano apprezzamento. Nel mese di marzo del 1950 ci fu la prima marcia per la conquista delle terre mal coltivate nel feudo vittoria del duca Riario Sforza, 100 ettari di oliveto nel comune di Polistana. Una mattina partimmo in 400-500 con in testa la bandiera rossa che era portata dalle raccoglitrici di olive. Nel 1956 viene eletto segretario della sezione del Partito Comunista Italiano e consigliere comunale di Polistana. Per me quegli incarichi furono un onore e una grande responsabilità, anche se aumentò di molto il mio impegno, perché continuavo a lavorare con un gruppo dipotatori. Qualche tempo dopo, nel 1959, mi chiamò il segretario della Federazione del Partito Comunista di Reggio, che allora era Nicola Gallo, per comunicarmi che avevano deciso di mandarmi alla scuola di partito a Bologna, al Marabbini, per la formazione dei quadri dirigenti di base. Lasciai il lavoro. A quel punto avevo fatto una scelta di vita. Quando il partito chiamava, si doveva rispondere, essere sempre pronti in ogni occasione e per qualunque cosa, disposti a ogni sacrificio. Era così che a quei tempi vedevamo il senso della nostra militanza comunista. Partì per Bologna, dove rimasi due mesi. Fu una grande emozione a Bologna vedere il sindaco Giuseppe Dozza nella sala del Podestà, il contributo degli emiliani alla resistenza, le cooperative. Insomma, l'incontro con un altro mondo, un'altra storia così diversa dalla nostra. Un'esperienza importante, anche politica. Erano gli anni di scelba, eppure questi compagni emiliani ci dicevano che anche i poliziotti erano lavoratori, disoccupati del mezzogiorno, che per necessità avevano trovato un lavoro nella polizia e che non bisognava disprezzarli. Era un corso di base per quadri meridionali, che ha arricchito molto la mia preparazione politica. Il partito ci dava un piccolo contributo di 500 lire a settimana. Molti di noi, per frequentare il corso, avevano dovuto lasciare il lavoro. Eppure, quei soldi li usammo per piccoli gesti di solidarietà. Eravamo tutti meridionali, non molto equipaggiati per il clima di Bologna. La nebbia, la neve. E così abbiamo fatto una colletta per comprare il cappotto a un compagno di Reggio, che soffriva per il freddo. Ma ricordo un altro episodio. Un giorno mi arrivò un vaglia, accompagnato da una lettera dei 15 lavoratori della mia vecchia squadra di potatori. Mi avevano spedito 1500 lire. Sapevano che nei mesi di permanenza alla scuola di partito non guadagnavo più. Ti aspettiamo, scrivevano nella lettera. Capiamo che l'esperienza che stai facendo servirà a tutti noi, che aiuterà la nostra causa comune. Facevamo tutti lo stesso lavoro, ma mi consideravano il loro dirigente politico, quello che sapeva leggere e scrivere. Gli spiegava le cose, gli leggeva i giornali. E ora ero addirittura a Bologna, alla scuola del partito. Avevano raccolto 1500 lire fra di loro. Per me, come si possono dimenticare queste persone, questi compagni? Nel 1960 mi trasferì a Reggio Calabria, ma mia moglie Pasqualina, con la quale mi ero sposato nel 1954, ed il mio primo figlio Michelangelo, mi seguirono nel 1963, dopo la nascita di mia figlia Maria Concetta, da noi sempre chiamata Tina. Sempre nel 1960 fui delegato di Reggio Calabria, uno dei sei, all'undicesimo congresso nazionale del Partito Comunista Italiano. Lo stesso anno, Tommaso Rossi, divenuto segretario della Federazione di Reggio, mi chiamò e mi propose l'incarico di vice segretario della Federbraccianti provinciale e fui delegato anche al sesto congresso nazionale della Federbraccianti della CGL. Era il 2 maggio 1960, quando accettai il nuovo incarico. Quel giorno finì la mia vita di bracciante e cominciò quella di dirigente politico e sindacale. Segretario della Federbraccianti, sono diventato nel 1963, anno in cui frequentai la scuola sindacale di Ariccia. Ero arrivato a Reggio con un bel bagaglio di esperienza alle spalle. Conoscevo i breccianti, come la pensavano, che cosa volevano, i loro problemi, che fino a poco tempo prima erano stati anche i miei. Il mio compito era organizzare le lotte dei lavoratori agricoli, che allora erano la forza sociale di gran lunga più presente e combattiva della nostra provincia. Furono anni di dure battaglie, ma di grandi conquiste per dare dignità e diritti al lavoro di migliaia di raccoglietrici di olive della piana di Gioia Tauro e di migliaia di gelsominaia della costa ionica regina. Nel 1968 Mario Tornatora, segretario del partito, mi convocò in federazione e mi disse senza preamboli che il partito aveva pensato di candidarmi alla Camera dei Deputati. Risposi che non avevo mai sognato di diventare un parlamentare e che avrei preferito continuare a fare il mio mestiere di sindacalista, che non avevo mai chiesto niente al partito, che non chiedevo niente, ma che se avevano deciso ero a disposizione del partito. Le elezioni si svolsero il 19 e 20 maggio e fui eletto. All'inizio, come facevano tutti i parlamentari che venivano dalla provincia, me ne stavo zitto ad ascoltare personalità come Longo, Paietta, Ingrao, Amendola, Terracini. Sentivo parlare in aula personaggi come Moro, Rumor, Fanfani, Nenni, De Martino. Ero stato proiettato improvvisamente in un altro mondo dove mi sentivo piccolo. Poi incominciai la mia attività parlamentare in Commissione Trasporti. Il 7 giugno del 1970 si svolsero le elezioni per il Consiglio Comunale di Polistena. Il Partito Comunista conquistò da solo la maggioranza assoluta. Un trionfo. Ed io, Momo Tripodi, il bracciante che era diventato deputato, venne eletto sindaco di quella che da subito chiamai l'amministrazione popolare di Polistena. Approfittavo delle rinoni nazionali del Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani, per parlare con gli amministratori emiliani, toscani, umbri, gente seria e capace che aveva alle spalle qualche decennio di esperienza. Quella vittoria è stata la nostra piccola rivoluzione. I braccianti al governo della città, ma nell'esercizio dell'amministrazione ho curato l'interesse generale. Per questo sono stato rieletto per più di 30 anni. In quello stesso anno scoppiò la rivolta dei Boiacimolla per Reggio Capoluogo. L'anno successivo nacque il mio terzo figlio Ivan. L'attività di sindaco incominciò a dare i suoi frutti. Abbiamo ricostruito tutte le scuole medie che erano fatiscenti, organizzato il trasporto gratuito degli alunni, dal momento che in tanti venivano dalle campagne, esteso la mensa gratuita nelle scuole superiori. Abbiamo realizzato l'asilo nido, il consultorio, quattro scuole materne e istituito il medico scolastico. Abbiamo dato libri gratuiti anche agli studenti della scuola media dell'obbligo e stampato migliaia di copie della Costituzione che abbiamo distribuito a tutti i cittadini. Abbiamo istituito la festa degli emigrati, premiandoli con una medaglia d'oro, organizzato colonie estive per i bambini ed anziani. Primo ed unico comune della Calabria, abbiamo realizzato un'area industriale dove adesso operano una quindicina di aziende. Abbiamo espropriato terreni, fatto le opere di urbanizzazione, gas, illuminazione, luce, fognature e concesso agevolazioni ai giovani e alle cooperative. È stato un successo. Unici nella Piana abbiamo esteso la rete delle fognature a tutto il territorio comunale, campagne comprese, e abbiamo risolto il problema della mancanza dell'acqua. Con gli anni abbiamo costruito un anfiteatro per le rappresentazioni artistiche dell'estate culturale polistenese ed abbiamo istituito una stagione lirica. Abbiamo costruito il palazzetto dello sport, la circonvallazione e abbiamo contribuito con vari finanziamenti al recupero e restauro delle chiese antiche di Polistena. Siamo stati il primo comune della Calabria ad avere il metano nel 1985. Inoltre ci occupavamo subito dell'ospedale che allora era solo uno scheletro abbandonato. La giunta e il Consiglio Comunale si recarono a Roma per chiedere i finanziamenti necessari per la ripresa dei lavori, ottenendo complessivamente 500 milioni. E nel mese di dicembre del 1974 fu inaugurato il nuovo ospedale di Polistena. Nel 1980 l'amministrazione appaltò i lavori per la nuova casa comunale e per l'auditorium. Il titolare dell'impresa vecchio che si era aggiudicato ai lavori era un uomo coraggioso che non ha mai ceduto alle intimidazioni della mafia. Ma l'impresa subì alcuni attentati a scopo estorsivo. Io e il commendatore vecchio ci recamo dal prefetto di Reggio Calabria insieme a una delegazione di cittadini e amministratori, sostenendo che era in corso un attacco contro la città, chiedendo che lo Stato si facesse carico di difendere l'impresa, il comune e Polistena. Per ordine del prefetto Ciompi, carabinieri e polizia presidiarono il cantiere per cinque anni. E infine, nel 1985, nel mese di giugno, una gran folla partecipò all'inaugurazione della nuova casa comunale e dell'auditorium di Polistena alla presenza del vicepresidente del Senato, Giglia Tedesco. Furono anni caratterizzati dal mio forte impegno contro l'andrangheta, al punto da subire numerose minacce di morte e per parecchi anni venni sottoposto a misura di protezione escortato dalle forze di polizia. Nel 1978 testimoniai al primo maxiprocesso per associazione a delinquere di stampo mafioso a Reggio Calabria. Negli anni Ottanta mi opposi fermamente al progetto dell'Enner relativo alla costruzione di una grande centrale a carbone a Gioia Tauro. Le conseguenze dell'inquinamento per la salute, l'agricoltura, il turismo e il futuro sviluppo del porto sarebbero state devastanti. Fu nominato coordinatore del Comitato dei Sindaci della Piana e del Vibonese, divenendo così l'animatore dell'opposizione alla centrale. Grazie alla grande mobilitazione, agli scioperi, alle occupazioni, al referendum popolare autogestito, alla partecipazione dei cittadini, dei movimenti ambientalisti, si vinse quella grande battaglia e la centrale non fu costruita e oggi a Gioia Tauro c'è uno dei più grandi porti di transshipment. Sull'onda di quel successo nel 1987 tornai in Parlamento eletto senatore nel collegio di Palmi con una grande affermazione. Ricordo che in quella legislatura fui tra i protagonisti dell'approvazione del famoso decreto reggio. E così, se mio padre non avesse cominciato a insegnarmi l'alfabeto, la sera, alla luce di una lanterna a olio, se la maestra benvenuta Milea non avesse insistito per farmi andare a scuola e conseguire almeno la licenza elementare, chissà quale vita avrei avuto. Ma in quegli anni tutto era possibile, perché nell'Italia del dopoguerra a un certo punto ci fu veramente una grande mobilitazione sociale, perché passione e forti convinzioni possono rompere ogni muro. Avvenne così che un bracciante potatore di Polistana divenne sindaco del comune di Polistana per 31 anni, deputato e senatore per cinque legislature, segretario della Commissione bicamerale di inchiesta antimafia e nel 1994 questore anziano del Senato, la quarta carica della Repubblica italiana dopo il capo dello Stato e i presidenti di Camera e Senato. Mi auguro che questa storia di tante donne e di tanti uomini che anche la mia storia possa trasmettere alle nuove generazioni, ai miei nipoti Alessandro, Sonia, alla piccola Sveva, un pezzo eccezionale di memoria storica che riguarda una classe lavoratrice che si è riscattata da una condizione feudale di oppressione e di sfruttamento. Grazie a tutti, grazie a tutti. Bene, una bella storia davvero, una bella storia raccontata da una voce femminile, questa è la prima curiosità non tanto mia quanto della gente che ci ascolterà, perché visto che era fatta in prima persona, perché questa scelta? È una scelta fatta perché la voce narrante, Cinzia Messina, che è una insegnante, una nostra amica, una collaboratrice della fondazione, è anche impegnata in attività di spettacolo teatrale, quindi è una persona che ci è sembrata adatta a dare il tono giusto a questa storia che ha appunto, come dicevi tu, nel suo sviluppo anche del filmato, diventa una sorta di componimento poetico in qualche modo. Non c'è enfasi. che ha questa enfasi, che non è retorica, diciamo, grossolana. È una storia che abbiamo vissuto tutti assieme a lui, è storia. Sono fatti che vengono raccontati, si è cercato di metterli in ordine con un certo, diciamo, rassiocinio e si è utilizzato, devo dire, molto il lavoro che ha fatto il nostro grande e caro Marcello. Che subito chiamiamo in causa perché il libro che ho qua e con me in mano, Il riscatto, questa parola torna anche nel filmato, no? Perché Il riscatto? Come abbiamo visto, il filmato, questo bel documentario, devo dire, è ragione, insomma, anche commovente, almeno per chi ha conosciuto quel periodo, quella storia e la persona di Gerolamo, Momo, Tripodi, ti suscita appunto una commozione. Il riscatto perché è la storia di, usiamo questo termine, noi abbiamo usato il termine riscatto perché era anche un termine che si usava all'epoca e potremmo chiamarla di progresso, di, diciamo così, di straordinario, ma anche di straordinario movimento sociale, personale e collettivo, perché questo documentario racconta una storia che è una storia, diciamo, personale, quella di Momo, Tripodi, ma anche una storia collettiva. Questo è, diciamo, la parte, direi, interessante ed è interessante per motivi di attualità, cioè, diciamo, c'è una componente nostalgica per chi l'ha vissuta che è però un fatto privato, è un fatto legittimo e neanche, come dire, sbagliato. Però in realtà, come dire, quello che mi piacerebbe sottolineare in questa occasione è la, in questo momento, anni 2022, è una storia di straordinaria attualità e cercherò di dire perché. Non c'è dubbio, non c'è dubbio che chi seguirà questo filmato, per forza, lo dice anche il testo, farà una differenza tra quello che era e quello che è. Non c'è dubbio che ci sia. Allora, una differenza profonda, questo è il punto, perché, diciamo, quella storia che, appunto, è una storia di riscatto personale, nel caso di Momo, l'ha raccontato il documentario, il bracciante agricolo, che a un certo punto diventa una delle cariche nel corso, come dire, come risultato della sua lotta politica, diciamo, del suo impegno politico, diventa una delle massime cariche, diciamo, della Repubblica. Ma è anche, come dire, come lui ha tenuto sempre a ripetere, anche nel racconto che mi ha fatto personalmente, è anche una storia collettiva. Cioè, in quegli anni, per la prima volta, quelle che un tempo venivano definite le classi subalterne, no? Diventano protagoniste della vita politica del Paese. Cioè, acquistano diritti da lavoratori, come dire, in condizioni semifeudali, grazie a quell'impegno politico, diventano cittadini della Repubblica. Cioè, si attua in quel modo un pezzo della Costituzione italiana. Questo è il grande valore storico di questa cosa. Noi ora stiamo parlando di Reggio Calabria, della provincia di Reggio Calabria e della piana di Gioia Tauro, ma il fenomeno si potrebbe estendere, diciamo, in forme diverse, ovviamente, fra Nord e Sud, fra Regione, eccetera, ma a tutta l'Italia. Cioè, quelle che un tempo venivano definite le classi subalterne, quindi che erano ai margini, diciamo, della vita politica, diventano cittadini della nuova Repubblica democratica. E questo, come dire, è un fatto storico di straordinaria, di straordinaria. Non c'è dubbio che lui ha svolto un ruolo di protagonista. E lui, nel caso della provincia di Reggio Calabria, ha un ruolo di protagonista. Ma c'è di più. Perché è attuale tutto questo? Cioè, dal racconto, dalle cose che abbiamo visto, sembrano storie di un mondo che ormai è finito. Che in parte è vero, è un mondo è finito, il mondo è cambiato dall'epoca radicalmente, sicché fare paragoni, eccetera. No, l'attualità consiste nel fatto che quella, come dire, che tutto questo era frutto di uno straordinario mix di carica ideale. Questa era la politica, almeno nel caso del Partito Comunista Italiano, di cui lui è un rappresentante. Ma insomma, non solo. Ma comunque, nel caso del Partito Comunista, di uno straordinario, felice mix di grande spinta ideale e di lotta per le condizioni immediate, diciamo così, delle persone, dei lavoratori, eccetera. Dall'ottenere, come dire, la copertura sanitaria, alla pensione, al diritto del sciopero, al diritto di un salario dignitoso, al diritto di organizzarsi il sindacato. C'era questo mix di realtà. quotidiana, eccetera. Questo era, come dire, la politica, come veniva. C'è un aspetto umano molto bello in tutto questo. Vedi, un aspetto che forse oggi è diventato molto evanescente. Colpisce molto i compagni del partito che raccolgono i soldi per mandare a lui, che si trovava a Bologna, 1500 lire, ma non è tanto, quanto la motivazione. Sappiamo che là stai lavorando per noi. Ecco il discorso che tu stai facendo. Non per lui. Non per lui. Stiamo lavorando per noi. Allora, questo era il modo di intendere la politica. Domanda. È, come dire, una, stiamo parlando, o come possiamo dire, stiamo rievocando una storia in modo nostalgico? No. No. Secondo me. Perché lo vediamo nei fatti. Come dire, all'epoca, alle elezioni della Repubblica Italiana partecipava circa il 90% della popolazione, diciamo così. Oggi siamo al 33%. Oggi, come dire, c'è stato un crollo verticale della cosa, che non è un fatto secondario, ma è il segnale di una crisi profonda della democrazia, dei partiti e della democrazia. Perché abbiamo disaffezione generale nei confronti della politica e non partecipazione alla vita democratica. Fenomeno che non si manifesta solo in Italia, ma si manifesta un po' ovunque, diciamo così, nei sistemi analoghi al nostro. Ma anche perché il popolo, ti chiedo scusa, ti interrompo, anche perché la gente, il popolo, chiamiamolo che mi piace di più, è stato defraudato. È stato defraudato di un potere incredibile, che era il potere di eleggere qualcuno. Oggi non si elegge, oggi si vota per il meno peggio. Oggi si dà l'indicazione al voto che è già stato determinato a monte. Questo non è democrazia. Preconfezionato. Questo non è democrazia. Non è democrazia. Ci sono scelte preconfezionate da un gruppo di personaggi che stanno nelle segreterie nazionali, che da Roma decidono i deputati da piazzare in Calabria, a Milano, a Torino. Esatto. E il potere popolare è stato totalmente cancellato. Questa è la cosa che ti consentono di andare a votare e a mettere una croce. Questi partiti sono diventati, insisto, essendo diventati macchine elettorali, diciamo, ormai si preoccupano di questo e tutto questo discorso che noi abbiamo, tutta questa storia che noi abbiamo visto, questo rapporto fra la politica e il cittadino è venuto, in parte è venuto meno, ma in gran parte è venuto meno. Ma non è scontato. Perché se noi notiamo in alcuni momenti decisivi, diciamo così, prendiamo l'ultimo caso di un paese dove si è sempre votato, come dire, ha sempre votato una minoranza di popolazione, gli Stati Uniti d'America. Alle ultime elezioni, quando c'è stata, diciamo così, uno scontro politico importante, come abbiamo seguito nelle ultime cose, c'è stata una partecipazione notevole. Cioè, quando c'è, come dire, una carica ideale, c'è da fare una scelta importante, eccetera, non è, come dire, un fatto scontato, per virtù divina. La gente non ci va perché non crede più a queste cose. Ma se ti dà l'occasione... Non è soltanto perché non crede, Marcello. Scusami, non è soltanto, ti do subito la parola, non è soltanto perché non crede, è perché vede che il suo voto, il voto della gente, è inutile. È inutile, non cambia nulla. Cioè, più o meno... La domanda è, che vado a fare, a votare tanto e tutto scontato. Quando però si rendono conto che è importante, vanno. Questo volevo dire io. Sì, ma anche in questo caso oggi non si capisce qual è il valore della scelta che tu fai. Perché alla fine scelgo a destra o scelgo a sinistra, chiamiamole così. Sì, sì, va bene, non è questo il problema. No, scelgo a sinistra, ma alla fine la gente dice, non cambia niente, è tutta la stessa minestra alla fine. Ma questa è democrazia? Non c'è un'alternativa reale, per cui io dico, come tu dici, in America hanno votato, c'era Trump che esprimeva una certa idea e Biden e i democratici che erano totalmente... C'è stato uno scontro politico con differenze e allora, come dire, la differenza fra i due candidati, ora indipendentemente dall'uno o dall'altro, ma la differenza radicale tra i due candidati ha comportato una mobilizzazione e una partecipazione straordinaria mai vista negli Stati Uniti alle vicende politiche. Attenzione, c'era un diktat di partito, lo dice lui stesso, quando il partito mi chiama obbedisco, dice io vengo chiamato dal segretario provinciale e mi dice, guarda abbiamo deciso di farti fare il parlamentare, quindi sì, vabbè, ma io non ci pensavo neppure... Alt, però non era esattamente così la cosa, nel senso che sì, il segretario del partito l'ha chiamato della federazione dell'epoca e gli ha detto, ma poi, come dire, per diventare parlamentare c'era tutto un processo infinito che partiva dalle sezioni, doveva essere approvato... C'era una parte del diktat, si fa prendere la chiamata, ma... Ma poi dovevi andare a spiegarlo, come dire, sezione per sezione, cellula per cellula... C'era la base, come si chiamava una volta, che partecipava, c'erano le sezioni... Quello che stai dicendo è giusto, oggi, quando si va, io dico sempre, che quando si va nelle sezioni, ammesso che ci esistano ancora, dei vari partiti, vai e sei sicuro di avere 100 voti, esci con 92, perché qualcuno risulterà antipatico, lì era diverso il discorso... Oggi ci sono le truppe cammellate, una volta c'era partecipazione reale, per cui nelle sezioni arrivavano le persone, i militanti, liberamente, si esprimevano, si pronunciavano, si discutevano, discutevano dei problemi piccoli del quartiere, così come discutevano dei problemi internazionali, c'era quindi un modo di approcciarsi. Mio padre dice una cosa a un certo punto, mio padre, riferito a quella che lo riferisce nel libro, dice io, quando ho andato in Parlamento mi sono sentito così piccolo di fronte a queste personalità, e che ci dice che cos'era quella prima repubblica che oggi torna, diciamo, tanto bistrattata per una fase, e che oggi torna invece per il valore che ha avuto quella prima repubblica, a quei personaggi, Moro, Fanfani, Nenni, Lamalfa... Ha citato i nomi sia dell'una che dell'altra parte, il che significa una grande capacità, non dice quelli che erano con me erano i migliori, quelli che erano contro di me erano i peggiori, non è vero, questo è fondamentale, ed è una bella... Che tu l'hai colta questa cosa, e lui lo dice sempre, io mi ricordo che lui ogni cinque anni faceva il resoconto dell'attività amministrativa del Comune di Polistera. E la prima cosa che metteva, diciamo, facendo una specie di premessa in questo stampato che veniva distribuito ai cittadini, io ringrazio la Giunta, tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza. Ringrazio quelli che mi hanno sostenuto e quelli che mi hanno criticato, perché ho accettato le loro critiche, che sono state critiche costruttive, che mi hanno consentito di migliorare complessivamente l'attività dell'amministrazione comunale, quindi dell'attività, negli interessi generali. Lui a un certo punto dice che i braccianti diventano classe dirigente, però non significa che diventano, diciamo, coloro i quali assumono il potere contro gli altri, assumono il potere, diciamo, figurativamente, ma negli interessi generali, e faranno certamente una politica che tiene conto di tutti gli interessi della politica. La lotta di Girova Trimodi diventano cittadini, che prima non erano cittadini, diciamoci la verità. Oggi sarebbe anacronistico soltanto pensare, nel filmato, Marcello, puoi dire quello che vuoi, si ricorda una figura a me molto particolarmente cara, quella di Tommaso Rossi, che ha rappresentato per questa terra forse la politica con la P maiuscola, o sbaglio? Anche quella di Tommaso Rossi è una bella storia. Ricordiamo, come dire, che Tommaso, oltre a essere, come dire, un dirigente politico di primo piano, diciamo così, in Calabria, eccetera, eccetera, è stato anche parlamentare europeo, ricordiamo che anche la sua storia, come lui era di Cardeto originario, comincia con le lotte dei raccoglitori di castagne di Cardeto e lì ci lascia, come dire, essendo il clima particolarmente rigido, insomma, zona di montagna, Cardeto, eccetera, eccetera, come dire, lui, erano protagonisti di quelle lotte, erano lui e il fratello più giovane che è morto dai tubercolosi, l'ha presa là, passando le notti all'addiaccio con i raccoglitori di castagne. Però io vorrei cogliere l'occasione per una considerazione, se mi consentite, di attualità che mi ha ispirato proprio il documentario, parlando di cose di questi giorni. Noi sappiamo che stiamo vivendo un momento particolarmente drammatico, naturalmente, abbiamo avuto la pandemia, abbiamo ancora in corso la pandemia, c'è quello che sta succedendo, come dire, in Europa, in Crimea, in Crimea, insomma, in Ucraina, la guerra, eccetera, eccetera, e comunque oggi non se ne parla, ma poco tempo fa abbiamo avuto alle porte proprio di casa nostra i massacri nella guerra in Jugoslavia, eccetera, eccetera, quindi non è che abbiamo avuto il terrorismo islamico. Tutto questo spesso, diciamo, e qui è un po', per questo dico, mi ha fatto questa considerazione che sto per fare, mi è venuta da questo documentario. Spesso, come si legge, tutto questo viene considerato come un attacco al nostro modo di vita. Io penso invece a un'altra cosa, che, certo, tutte queste sono cose terribili, voglio dire, non è che le sottovaluto, non le sottovaluto affatto, anche i rischi che, come dire, fanno correre al nostro sistema, diciamo così, di vita e al nostro sistema politico. Però io continuo a pensare che, come dire, là, proprio guardando queste immagini e questa storia, che la vera minaccia al nostro sistema politico e al nostro sistema di vita viene da noi, viene dalla crisi della politica e dalla rottura del rapporto, come dire, tra rappresentati e rappresentanti. Viene, diciamo così, dalla disaffezione, che è quella che dicevamo prima, insomma, alla politica. Viene da questo, nel corso di questi anni, accentuarsi delle distanze, delle ingiustizie sociali, diciamo così, della divaricazione sociale tra ricchi e poveri, che non è mai stata, forse, prima del welfare, prima della guerra, a questi livelli. Cioè, da tutta una serie di cose che stanno corrodendo dall'interno il nostro sistema democratico, politico e sociale. E viene da fenomeni interni come i populismi, che sono, come dire, quelli che nascono dalla crisi della politica. Questo è quello che... il pericolo che noi corriamo non viene da fuori, viene da dentro il nostro sistema. Perché questa considerazione me la esprime, me la suggerisce quello che abbiamo visto fino ad ora. Quindi, quello che noi abbiamo visto non va letto come un fatto nostalgico. Va letto come un fatto, come dire, che ci ricorda che, intanto che è possibile, come dire, un'alternativa, è possibile fare politica in modo diverso, ma ci ricorda anche che, se non è così, la crisi, come dire, viene dal nostro interno. I pericoli vengono dal nostro interno, dall'interno dei nostri sistemi. E allora, come dire, la lezione de Mommo ci insegna tante cose, è attuale, non è solo un ricordo, è di grande attualità. Concordo in pieno su questa linea, anche perché, mentre tu parlavi, mi veniva in mente proprio questo, hai usato la parola lezione. Questo filmato, per me, al di là del fatto affettivo per una persona che non c'è, io in questi giorni vi ho detto, stiamo passando in rassegna tante figure. Abbiamo passato in rassegna la figura del giudice Etucci, abbiamo ricordato, quella del colonnella dei cannabinieri Fazio. Cioè, li stiamo rivedendo queste, prossimamente parleremo di Tommaso Rossi, parleremo di tanti altri che sono, di Totò Polimeni, di Italo Falcomatà, di Alberto Neri, cioè tutte quelle figure, non necessariamente soltanto politiche, che hanno, usiamo questo termine che non è aulico, onorato questa terra. Ma perché l'hanno onorata? Perché sono bravi, che non usano la medaglia? No! Perché hanno dimostrato una cosa, che anche da qui possono partire le battaglie per il riscatto di cui parla Marcello Villari. Perché da qui noi siamo convinti sempre, e continuiamo ad esserlo, e da qui la perdita di fiducia anche della gente, che bisogna aspettare il Messia, perché venga da, chissà da quale nazione, chissà da quale posto recondito, per venire qui per risollevarci dalla situazione nella quale siamo, ahimè, caduti nella situazione. Ora, Momo Tripodi era di Polistena, Momo Tripodi aveva la quinta elementare, lui orgogliosamente lo dice, Momo Tripodi è arrivato fino alla quarta carica dello Stato, ma non è arrivato perché l'ha deciso qualcuno, l'ha deciso la gente, perché se Momo Tripodi non avesse fatto, e c'è un'altra cosa che voglio dire, quello che ha detto, attraverso questo filmato che l'ha firmato lui, diciamo, questo filmato l'ha firmato lui, però in Momo Tripodi c'è una cosa, e mi taccio perché voglio sentire un attimo il figlio, c'è una sovrapposizione egregia che oggi non vediamo, e cioè tra il politico puro e l'amministratore. Sono due cose diverse, far parte del Parlamento e far parte di una giunta comunale, sono due cose totalmente differenti, perché con la giunta comunale, con il popolo di un paese, di una città, ti confronti sui fatti, non sul modo di dire, sui disegni di legge o sulle varie promesse che oggi si fanno qua, no, no, ti confronti, e l'elenco che lui ha fatto attraverso il filmato, abbiamo fatto le fogne, abbiamo rimetto a posto le strade, le scuole, le scuole, le fogne, cioè tutto quello che in una città c'è bisogno, cioè cosa significa tutto quello? Che Momo Tripodi ha aumentato la qualità della vita e dei suoi concittativi. Ovviamente c'è una cosa che mi sta nel ventricolo sinistro, mi dispiace, non ce la devo dire, quando a me dice, ed è vero perché io ci sono andato, da lui stesso invitato, quando un paese non è Polistena, che poi ha una sua storia Polistena, attenzione, non è che è un paese così, ha una sua storia che risale alle notte dei tempi, altro che ai tempi nostri, che mi fa una stagione lirica, per dimostrare quello che io dico da una vita, guardate che la lirica, come la musica classica, non è stata scritta per quelli che hanno la puzza sotto il naso, è il popolo che usufruiva di queste cose, è il popolo che determinava il successo o l'insuccesso di un'opera lirica. La lingua italiana nasce dai libretti d'opera, nei paesi, quando c'erano le bande, non quelle, le bande musicali, la gente seguiva le parafresi delle varie opere, fatte dal sindaco, dal farmacista, dal prete, dal ciabattino, tutti insieme si mettevano a suonare uno strumento, e lì la gente ha imparato la lingua italiana, parliamo dell'epoca post-unitaria, e Mammo Tripodi ha capito questo, non è di poco conto, aveva la quinta elementare, non era pure laureato, aveva la quinta elementare, e dice io voglio fare la stagione lirica, perché la stagione lirica, l'opera lirica, comunque come tutte le opere culturali, rappresentano un qualcosa di popolare, cioè per la gente, qui la gente oggi non entra più nei teatri, perché ha paura, perché non li conosce. Mi piace questa tua ricostruzione, ti devo dire che, come dire, lui appunto era diventato poi un uomo politico, però, diciamo, contemporaneamente era un amministratore, e ha dimostrato con i fatti come si possono fare le cose qui da noi, e che si possono fare. Questo è fondamentale. Lui, diciamo, a un certo punto amava dire, abbiamo trasformato Polistana da paese rurale a città progredita e avanzata, ricca di servizi, di qualità della vita, di infrastrutture. Polistana è stata la prima città calabrese che ha avuto il metano nel 1975. Sì, l'abbiamo visto. E lo ricorda il filmato. Insomma, ogni anno mandavano 400 bambini delle scuole nelle colonie estive, cose, diciamo, incredibili, tutti, senza, diciamo, differenze, senza distinzioni di carattere sociale o politico, eccetera. Davano i libri gratis fino alla scuola media. Hanno costruito le scuole, hanno costruito le case popolari, hanno costruito il palazzetto dello sport, hanno realizzato la circonvallazione, il comune che il fiore all'occhiello, io su questo voglio un attimo soffermarmi, anche perché è stata, diciamo, una delle cose, una delle opere più importanti e che tuttora mantiene una sua valenza storica e architettonica. Un comune realizzato con la presenza permanente per cinque anni delle forze dell'ordine, delle carabinieri e della polizia. Abbiamo visto, abbiamo visto. E che rappresenta, quando fu realizzato, oltre 40 anni fa, diciamo, un esempio vincente di lotta contro l'andrangheta, antelitteram, parliamo, e anche la sua testimonianza. Lui testimoniò nel 1978 in un processo di cui era presidente Ciu Tuccio, il giudice Tuccio, il processo contro i 60, i famosi, e poi il più grande maxiprocesso, da lì cominciarono i maxiprocessi. Antesignano, dei maxiprocessi. E lui testimoniò, fece una testimonianza anche molto coraggiosa. E in altri tempi, insomma, diciamoci la verità, una bella vita, non al servizio di se stesso. Questo è quello che mi piace sottolineare. Ma al servizio della collettività. Per me, Momo Tripodi poteva essere di sinistra, di gente, di destra, nessuna importanza. Ma è una persona coerente che ha portato lo sviluppo, come diceva giustamente Marcello all'inizio, che ha riportato al rango di cittadini, i braccianti, di cui lui era un esponente. Non dimenticate quello che avete sentito sulle gelsominaie, sulle donne raccogliette di gelsomino. Un'altra storia di questa terra che purtroppo nessuno conosce, quelle che si donna azzare alle tre del mattino per raccogliere il gelsomino quando ancora era fresco di ruggiare. Ma abbiamo fatto, abbiamo utilizzato questo, non è un Amarcord. E questo è, mi piace sottolinearlo, non è un Amarcord, è una realtà. Poi c'è il sentimento, ma scusate, ricacciami il sentimento è il fine del film, è come se fosse un film senza la colonna sonora. Invece c'è anche il sentimento, perché è giusto che ci sia, c'è l'amore filiale, c'è il rispetto, c'è il rispetto. Mi piace dirlo, c'è una persona, un'immagine che va rispettata. Allora Marcello, ne approfitto per dire, facendoci forti di questa vita dedicata alla politica, dedicata all'amministrazione, al suo paese, che ha dimostrato, soprattutto, questo che mi piace sottolineare ancora di più, che anche qui, a queste latitudini, si può fare, perché qua siamo convinti che invece qua non si può fare, dobbiamo sempre aspettare che arriva, come ho già detto, il Messia. Facendoci forti di questo e analizzando tutto ciò che tu hai detto, cioè la crisi della politica, la crisi dell'individuo cittadino, cioè il cittadino non va a votare perché dice tanto che vado a fare, che è proprio così, non vado a votare perché tanto non cambia niente, tanto rumore per nulla. La crisi della politica, il rischio endogeno che tu hai molto sapientemente delineato, cioè il problema è nostro, siamo noi che stiamo mettendo in discussione quelli che sono i valori della democrazia, del vivere civile, dell'etica, della politica. Quando uno dice la politica non esiste non è che dice così a caso, non è un modo di dire. I partiti politici dove si si riuniva a destra, a sinistra, la cosa più bella, io mi ricordo quando ero ragazzino entravo nel Consiglio Comunale per andare ad ascoltare quelli che parlavano, cioè io sto parlando di Eni, di destra, di sinistra, di tutti, c'era Gaetano Cingari, ma scusate, quando uno sentiva parlare Gaetano Cingari si fermavano gli orologi, si fermavano gli orologi ragazzi, non scherziamo con le cose serie, quindi non ha importanza di quale ideologia, l'importante è sentire parlare, oggi, oggi no, oggi sentiamo persone che il congiuntivo non sanno di quale razza è religione, ma di là del congiuntivo perché uno può anche esprimersi in maniera poco contro nella lingua italiana con buona pace del Tommaseo, però dire concetti importanti, no, neanche quella è la vacuità dei concetti che non ci sono più, c'è soltanto un freddo individualismo, io, 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 votate per me perché tanto l'ha deciso qualcuno nel partito, contro tutto questo, Marcello, quali sono gli antidoti secondo te, cosa dobbiamo fare, cosa deve fare ognuno di noi per cercare di cambiare, non ti chiedo la ricetta, perché, però dico, la ricetta non c'è, però posso fare una considerazione da calabrese, regino, da regino, diciamo, emigrato, come tanti, purtroppo, da 40 anni sono fuori dalla mia città, e dato che ci sei tu e so di che cosa, quindi, come dire, mi viene dal fatto che ci sei tu e dalla tua attività e da quello che ho visto, sai quale potrebbe essere una grande battaglia di civiltà, all'epoca furono, come dire, i braccianti nella provincia di Reggio, i braccianti della Piana, i raccogliti di Giulio Oliver, i raccogliti di Gelsomino, i coloni del Bergamotto nel comune di Reggio Calabria, insomma, eccetera, eccetera, oggi sai quale potrebbe essere una grande battaglia di civiltà in questa regione? La sanità, la sanità che è una vergogna, diciamo così, nazionale, e allora, siccome la sanità è, appunto, dico, so che tu sai di che parlo perché ti occupi di questo, io, dalle cose che si vedono da fuori, veramente ci sarebbe da, che si vedono in telegiornali queste cose quando è scoppiato il Covid, eccetera, insomma, situazioni che uno resta allibito, e allora, resta allibito proprio da Calabrese, da Reggino, eccetera, eccetera, io credo che, come dire, oggi una battaglia per riportare a livelli, diciamo, di dignità la medicina in Calabria sarebbe una grande battaglia politica, popolare, anche perché nessuno lo dice, ma la Calabria è, diciamo, all'ultimo, nelle statistiche europee, insomma, è una delle regioni più povere, credo che un calabrese paghi il triplo o il quadruplo di quanto paghi, che ne so, un bolognese o uno decuneo o un torinese, eccetera, perché quando sei costretto, dato che il servizio qui non c'è, a portare il parente che si deve operare a Padova, a Pisa, a Roma, eccetera, tu devi pensare le spese, devi pensare il fatto che vai a viaggiare, la permanenza, te costa a un calabrese il triplo, il quadruplo di quanto costa un bolognese che c'è il quintuplo, per dire, dico Bologna, per dire piuttosto Torino, del tuo rendito. Per essere curato da un calabrese? Spesso per essere curato da un medico calabrese. La conclusione del tuo discorso. Tu, quindi è un grande tema, non tutti possono permettere, eccetera, 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 e allora io direi che questa potrebbe essere, diciamo così, non l'unico, ovviamente, ma un metro di misura per calcolare una classe dirigente, scusa, non per calcolare, per valutare una classe dirigente. Ci sono due aspetti di questa, che escono un po' da questo argomento, ma ci prendiamo un po' di tempo in più, perché mi hai invitato a nozze, cioè prima mi hai fatto sentire un concerto per Don Mommo, ora parliamo di un concerto per la sanità, che peraltro lui era molto legato a questo concerto, perché io lo so, perché mi teneva un'ora precisa davanti all'istituto, dove lui veniva molto spesso a parlare per un'ora della sanità, per un'ora parlavamo, perché lui aveva delle visioni, ecco, quello è il bello, vedete, il politico vero deve guardare, deve sapere guardare al futuro, non al passato, e lui sapeva guardare al futuro. tu hai toccato due argomenti importanti, quello della sanità, noi spendiamo 350 milioni di euro per la sanità, dei soldi dei calabresi, per la sanità fuori regione, 350 milioni di euro, e questo è un aspetto, ma non entro nel merito perché ti dico che c'è una sanità validissima delle nostre parti, ma c'è una politica pessima che non sa avvantaggiarsi di quella sanità buona che c'è, perché qua si continuano a fare convenzioni anche con le strutture del nord, le quali strutture del nord ci dicono ma noi non vogliamo fare convenzioni con voi, perché se io faccio la convenzione con voi, questo il direttore, io faccio nome e cognome, il direttore del Fatebene Fratelli ha detto no io non voglio fare con voi, perché se io faccio convenzioni con voi, da me, no da me, non viene più nessuno dalla Sicilia e dalla Calabria, perché noi siamo i migliori affluenti, i migliori clienti, di questa gente e poi c'è l'altro aspetto sulla sanità mi fermo qui perché a voglia la gente sa come la penso, l'altro aspetto caro Marcello è che qui si spende, non si investe, qua l'amministratore che ha a disposizione dei denari, delle risorse che sono della gente le usa come se fossero suoi e per fare clientela politica non investe, spende, qui si fanno feste di piazza non per aumentare la cultura vedi Mommo Tripodico l'opera lirica a Polistena, va bene, no, non è proprio così, qui si spende perché bisogna captare la benevolenza della gente che scende dai paesi vinitrofi per applaudire questo, quel divo del momento che lascia però, non lascia assolutamente nulla sulla piazza se non un po' di sporcizia dopo aver fatto il concerto o comunque la manifestazione, quindi la classe politica di qua deve stare attenta ad investire e non spendere, questa è la cosa importante. Infatti, quello che voglio dire, perché ho fatto questo esempio? Perché effettivamente come dire, quello che abbiamo visto è la trasformazione come abbiamo detto, noi stiamo parlando della provincia di Reggio Calabria ma in generale in Calabria in quegli anni ci fu Melissa, ci furono le occupazioni delle terre nella zona del Marchesato eccetera eccetera cioè la trasformazione di quei personaggi di un grande scrittore calabrese Corrado Alvaro diciamo, gente da Spromonte di quelle persone sottomesse come dire al barone al potente del posto li ha trasformati in cittadini che rivendicano i loro diritti stiamo parlando degli anni 50 siamo nel 2020 quello anche oggi è come dire secondo me è un momento di grandi battaglie assolutamente questo è il problema grandi battaglie in come dire su temi sensibili potremmo definirli strategiche io citavo quello della sanità ma anche nel caso della sanità come dire in Calabria ancora non c'è il cittadino questo è il punto stiamo parlando del 2022 non stiamo parlando più degli anni 50 e delle raccoglie di rigi d'olive assolutamente infatti è questo noi abbiamo un diritto scritto sulla carta per cui la sanità deve essere garantita a tutti i cittadini allo stesso modo da Milano a Reggio Calabria però poi avviene che non è vero proprio siamo sotto io vi do un numero non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza bravo io vi do un numero così lo capite i LEA sono i livelli essenziali di assistenza i LEA altro non sono che delle prestazioni di cui un cittadino ha diritto ha un diritto inalienabile bene i milanesi hanno diritto a 15 prestazioni pro capite noi 5 dove è l'uguaglianza di che stiamo parlando se la mettiamo così può diventare una grande ora io ho indicato un tema questi sono i grandi temi questi sono i temi analoghi a quelli diciamo così che stiamo parlando degli anni 50 ci vorrebbe un altro momo tripodi per la sanità vediamo se lo facciamo nascere su questo mi pongo un altro problema perché questa è una grande battaglia io sono convinto noi spendiamo come giustamente hai ricordato 350 milioni all'anno in 10 anni sono 3 miliardi e mezzo certo che significa che si potrebbero fare ospedali incentivare le strutture dare servizi prestazioni erogare diciamo qualsiasi tipo di diciamo tutela sanitaria ai nostri cittadini ma questi 3 miliardi e mezzo da questa a un certo punto debbono cambiare strada invece di andare da una parte debbono andare dall'altra e questo è un punto difficile che te lo consentano questo è un punto vero cioè il braccio di ferro che devi cominciare a a fare il sud rende opulento il nord mettiamocelo bene in testa allora lo diceva egregiamente Pasquino Grupi nell'ultimo libro che ha scritto sul meridionalismo siamo noi e guardate che però c'è qualcosa cosa che cambia Galli della Loggia ha pubblicato di recente un libro dove finalmente comincia a dire finalmente comincia a dire che Galli della Loggia non è certamente un meridionale né un meridionalista però comincia a dire guardate che se il sud non esce dal ghetto nel quale noi del nord l'abbiamo messo noi del nord andremo sempre più giù ed è cominciamo a ragionare finalmente in maniera un pochino però dal ghetto esci solo se tu prendi come dire in pugno il tuo destino se tu non prendi in pugno il tuo destino e continui a pensare che è colpa degli altri come il discorso che si faceva prima la democrazia è colpa il terrorismo islamico certo tutto questo c'è però io sono convinto che come dire non si può prenderla sempre con gli altri la crisi che noi stiamo vivendo è un prodotto interno diciamo così nostro anche qui a Calabria sì certo c'è la storia la questione mediterranea ma la questione sono passate 200 anni non si può sempre parlare di questione mediterranea cioè o come dire prendi in pugno il tuo destino oppure non esce gli artefici del nostro destino siamo noi ci vuole anche un pensiero mediterraneo però ci vuole un pensiero mediterraneo pensi quando noi diciamo i 350 milioni noi dobbiamo capire che lì ci sono interessi forti che sono ovviamente in opposizione ma noi dobbiamo ordinare e alla nostra rivendicazione noi vogliamo spendere i nostri soldi in Calabria per la sanità questo significa però che a un certo punto i bombardieri devono chiudere qualche ospedale qualcuno se ne deve andare a casa non c'è dubbio che tocchiamo interessi enormi io ho scritto qualche giorno fa che se per puro caso tutti i medici e i pazienti del sud tornassero in un giorno nelle loro case il nord rimarrebbe senza ospedali senza medici e senza pazienti questo ho scritto non più tardi di un mese fa detto questo il tempo alla nostra è abbondantemente scaduto però vorrei dare a tutti e due una cosa ecco Momo Tripodi non c'è più da quattro anni ma il suo insegnamento perché oggi abbiamo parlato di una parola bellissima secondo me l'insegnamento perché purtroppo quando ce ne andiamo all'altro mondo non quando io passeggiavo con Ido Falcomata sulle strade faceva che bello però vedere una strada intitolata un nome niente sapendo che da lì a poco avrebbero intitolato il lungomare a lui quindi è bello che l'insegnamento di Momo Tripodi rimanga non soltanto nel cuore di ciascuno di noi come figli come amici come persone che l'hanno rispettato ma come insegnamento per le nazioni future e quindi la fondazione nasce giusto? vogliamo dire due parole sulla fondazione sì è giusto perché la fondazione nasce proprio per cercare di dare continuità a questo insegnamento e renderla attuale come si è detto rispetto noi abbiamo molto lavorato e lavoreremo ancora continueremo a lavorare con i giovani con gli studenti abbiamo fatto in questi anni diverse borse di studio con istituti scolastici superiori sia a Reggio sia a Polistena quest'anno coinvolgiamo sei istituti li voglio citare adesso il liceo scientifico Alessandro Volta l'istituto comprensivo di Catona l'istituto superiore Boccioni Fermi sempre di Reggio poi l'ITIS Conte Milano di Polistena il liceo di Chichi di Polistena e l'istituto Renda di Polistena tutti istituti che parteciperanno alle borse di studio che noi abbiamo fatto diciamo già istituito negli anni passati e che continueranno ad istituire anche per il 2021 quest'anno scolastico premiamo i ragazzi più brillanti di questi istituti e più bisognosi insieme ovviamente no e questa è la prima è la cosa diciamo la missione principale queste cose che stiamo facendo abbiamo fatto contemporaneamente stiamo promuovendo alcune cose importanti parlavamo di raccoglitrici d'olive noi stiamo lavorando a un documentario importante per il recupero di questa storia che non è conosciuta e stiamo scoprendo cose straordinarie diciamo che diciamo rappresentano una vera e propria epopea che in quegli anni dagli anni 50 agli anni 70 sono state vissute vicende straordinarie da persone donne che diciamo si alzavano la mattina alle 4 dovevano fare due ore di cammino per arrivare al posto dove la chiamavano lanta per raccogliere le olive sotto i vari marchesi avati sforza i vari personaggi che diciamo latifondisti della zona e questo per noi è un altro pezzo di ragionamento vogliamo fare te ne accennavo prima una operazione ecco recuperando questa anche sua intuizione diciamo la musica lirica la musica per i poveri per il popolo diciamo se nell'estate vorremmo fare appunto questo festival diciamo della musica dei musicisti calabresi e qui ti chiederemo anche il teatro la musica non sono degli optional fanno parte della qualità della vita perché generano emozioni se non emozionassero non sarebbero elementi culturali la musica è questo Marcello a te l'onore e l'onore di concludere questo questo nostro diciamo anche se l'argomento non è piacevole perché stiamo ricordando una persona che non c'è però è normale nella natura delle cose purtroppo non siamo immortali quindi però ecco è immortale ciò che questo personaggio come tanti altri ribadisco della nostra regione hanno fatto quindi a te vedi noi ormai viviamo in quella che viene definita la società della comunicazione quindi la comunicazione è importante direi qual è come si può dire la parte più importante di una comunicazione è la produzione di speranza la produzione di speranza che significa tante cose speranze individuali e speranze collettive la speranza è comunque come dire speranza lui già ha un'attesa di un miglioramento e allora diciamo questo miglioramento che può essere un miglioramento materiale o come dire la capacità di come si può dire di convincere le persone che questo miglioramento è possibile ma se tu togli questo cambiamento in meglio è possibile ma se tu togli l'uno e l'altro nel senso che vedi che i figli i nostri figli stanno peggio come dire dei nostri padri se tu come dire non sei in grado di indicare un percorso di cambiamento e quindi di speranza a un miglioramento individuale e collettivo il messaggio non c'è più questo è il punto il messaggio di Momo Tripodi che si vede dalle sue parole e dalla sua diciamo così attività politica era un messaggio moderno e non era ancora la società della comunicazione no? però era un messaggio di speranza in un mondo migliore diciamo così che erano gli ideali del socialismo poi uno lo condivideva o uno lo condivideva ma era un messaggio di un mondo migliore ed era un messaggio lottiamo perché stiamo migliorando e si vedeva perché i figli di quelle io li ho poi girando con Momo Tripodi quando abbiamo scritto questo libro i figli come dire di quei braccianti di quelle raccoglitrici di olive di quelle raccoglitrici di gelsomino che ho conosciuto no? avvocati come dire e medici cioè erano diventi c'era un salto c'era stato un salto di qua una mobilità sociale in avanti straordinaria in quegli anni se non c'è tutto questo sono chiacchiere se vediamo nella società della comunicazione tutto questo sia la parte diciamo così materiale concreta sia la parte della speranza di un miglioramento è fondamentale se non c'è questo non c'è più un messaggio politico sono schermaglie da quattro soldi che quelle che noi vediamo nei talk show delle cose tu qui francamente non gliene frega niente a nessuno bene grazie io vi ringrazio per questa vostra partecipazione con questo messaggio di speranza nella speranza nella speranza che non sia quella mutuandola da Polistena da un'opera che ho visto a Polistena che era la Torandò c'è la speranza che delude sempre questa volta noi speriamo speriamo in una speranza gioco di parole che non deluda una speranza che deve diventare cosa come dire cosa attuabile e si può cambiare si può questo insegnamento di questa vita è chiaro come il sole si può cambiare o se volete cambiare si può grazie per la vostra partecipazione e alla prossima al prossimo personaggio che vi presenteremo arrivederci a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti